Per chi non sapeva preparare un'insalata di riso, a questo punto spero che sia un'operazione molto più semplice, si può stampare il diagramma di attività, appenderlo in cucina e seguire le istruzioni. Allora, anche qui devo leggere il testo e capire fondamentalmente dove c'è sequenza e dove c'è parallelismo, perché quelli sono i due pattern principali e poi devo capire se ci sono o meno decisioni e in questo caso andare a capire se devo andare a capire cosa succede nel mondo esterno, in particolare aspettare a capire quando l'acqua bolle, oppure se posso fare un processo che è tutto sommato autocontenuto. Quindi la prima operazione che faccio è mettere a bollire dell'acqua salata. Vado sul mio programma di modellazione e creo un nuovo diagramma. Quindi, primo passo, metto a mettere a bollire acqua. Quando avrà raggiunto il bollore, calate il riso. E quando avrà raggiunto il bollore? Dipende da dove mi trovo, che acqua uso, quanto ho alzato il gas, eccetera. Fondamentalmente guardo e capisco guardando la pentola quando l'acqua sta bollendo. Quindi fondamentalmente è un'informazione che mi arriva dall'esterno. quindi in questo caso posso andare a descrivere come l'acqua in ebollizione. In questa applicazione automaticamente mi viene messo questo che si chiama stereotipo che mi indica che questo è una ricezione di un segnale. A me personalmente non piace molto perché in realtà già la forma dell'attività indica che quello è un segnale, è la ricezione di un segnale, quindi di solito io lo disabilito. Quindi clicco destro e tolgo la visibilità dell'estereotipo. Se a voi non disturba potete tranquillamente lasciarlo. Non è questo un elemento essenziale. quindi dopo che c'è l'acqua in ebollizione si mette il riso. Mentre l'acqua bolla e il riso cuoce, preparate tutti gli ingredienti che vi servono per guarnire l'insalata. Questo mentre suggerisce che faccio qualcosa in parallelo all'ebollizione dell'acqua. quindi di fatto qui introduco un split di più attività in parallelo. e di attività in parallelo qui in un certo numero. Quindi versare i piselli suggerati nella pentola dove sta cuocendo il riso. Tagliare i wurstel. a rondelle e nello stesso modo anche i cetriolini. tagliare i pomodori a cubetti. Tagliare i pomodori a cubetti. tagliare i pomodori a cubetti. Quindi riducete a dadini anche il formaggio. In questo caso il quindi non indica la sequenza. La lingua italiana, come tutte le lingue naturali, è ambigua, quindi in alcuni casi quindi indica la sequenza, in altri casi invece è una congiunzione. Quindi riducete a dadini anche il formaggio. Tagliare il formaggio. Tagliare il mio pan dello. Tagliare le olive. Tagliare le olive. Tagliare le olive. In una ciotola versate tutti gli ingredienti sminuzzati. E' ovvio che questo lo posso fare solo una volta che ho sminuzzato tutti gli ingredienti. Quindi. Una volta che il riso è cotto unite il riso e i piselli alla ciotola. Quindi siamo qui. Quando è che è cotto il riso? Ragionevolmente io ho un tempo di cottura che devo lasciare passare. Almeno su una carta. Poi le cose possono essere un po' più complicate. Potrei assaggiarlo periodicamente. Diciamo che nel caso più semplice, tempo cottura. Lo posso mettere qui in cascata, lo posso mettere in parallelo. In realtà non cambia tantissimo. Sicuramente il tempo avrà dopo che ho messo i piselli sul gelato. Una cosa che ho dimenticato di fare. Quindi quando è passato il tempo di cottura. E ho anche messo gli ingredienti in una ciotola. Posso andare a unire il riso alla ciotola. Aggiungo il tonno. Mescolo per bene. e alla fine copro con la pellicola e lascio riposare il frigo. E a questo punto il processo è finalmente terminato. Allora, vi faccio notare che il processo non è strutturato. Sì, ragionevolmente sì, ma per come è scritta la ricetta. Allora, usando il nostro senso comune hai perfettamente ragione. Però per come è scritta la ricetta questo non c'è scritto. Se non c'è scritto devo buttare i piselli subito. O non mi dice che è importante aspettare del tempo o meno. Per cui in realtà è la ricetta che non è così precisa. Però se volessi dare quell'interpretazione lì, che è quella corretta, hai ragione. Dovrei metterlo prima, di modo che prima metti i piselli subito dopo che ho buttato il riso. E poi dopo, man mano, ho fatto tutto il resto. Sì. Non manca? Infatti, questo, per come l'ho disegnato, è un processo che non è strutturato. Hai perfettamente ragione. Infatti, c'è un fork e ci sono due join. In alcuni casi non è possibile fare altrimenti. In questo caso, in realtà, lo posso disegnare in maniera strutturata. E lo posso disegnare in questo modo, in particolare. Quindi, lo posso spostare tutto questo più in basso. Metto questo fork in alto. E poi, cancello questi archi. E metto un altro fork qua. E poi da questo... A questo punto, è successo. Potete notare, guardando questa soluzione, quella che c'era prima, che un processo strutturato come questo è più facile da leggere. Perché io identifico facilmente un blocco, che è tutto questo, di attività fatta in parallelo. Nel caso precedente, invece, c'era un po' un misto, perché alcuni erano in parallelo, ma qui si congiungevano un sotto insieme e un altro proseguiva. Per cui, in generale, come vi dicevo già la volta scorsa, quando è possibile, è bene cercare di organizzare il processo in maniera strutturata. Qui sotto. Qui mettere un merge. No, perché il merge come funziona? Il primo token che arriva, fa proseguire. Per cui, se io qui, al posto di questo join, mettessi un merge, il risultato è che, immaginiamo che per prima cosa taglio il boost. Mi taglio, il token prosegue, arriva qua, invece del fork, trovo un merge e prosegue. E prosegue qui e poi va avanti qua. E gli altri... Qui ho un token che arriva qui, prosegue e va avanti. Quindi, alla fine, qui mi ritrovo una serie di token che si accumulano. Quindi, non ho un token che arriva da questo percorso, ma ne ho cinque. Invece, questo join aspetta un token di qua e un token di qua. Quindi, in generale, è un errore chiudere un fork con un merge. Il fork richiede un join per mettere lì e congiungere tutti i percorso. Sì. Perfettamente ragionevole. Non corrisponde a quello che c'è scritto. Allora, se noi ci confrontiamo con la realtà, non ci sono dubbi. È molto più flessibile la soluzione che proponi tu. Se io vado a leggere quello che c'è scritto qua, mentre l'acqua bolle e il riso si cuoce, preparate. Quindi, vabbè, sì. Diciamo che, considerando che il linguaggio, la lingua italiana, è flessibile, diciamo così, e non precisa, è possibile. Soprattutto, sapendo di cosa stiamo parlando, parliamo di un processo che non conosciamo, è chiaro che tendiamo a leggere nel testo qualcosa che a noi risulta più familiare. Però, diciamo, va bene. In questo caso, poteva essere citato. Sì. Scusa, non ti sento, puoi ripetere. Sì. Sì. No. Allora, la soluzione che avevo fatto prima io, quindi quella di avere invece di questi due fork in cascata, in modo che a questo fork corrisponde questo join, a questo fork corrisponde questo join in maniera strutturata, mettere assieme questi due fork non è rarato. Semplicemente, fatto così, è un po' più facile da leggere. Però, se vi viene naturale farlo in un altro modo, non è rarato. Ok. Una breve considerazione, prima di chiudere con questo esercizio. Ci sono molti dettagli che sono lasciati non descritti. Tagliare i wurstel vuol dire che prendo la confezione, la apro, prendo il coltello, taglio. Probabilmente li deposito da qualche parte. È difficile che mi ci stia tutto sopra un unico tagliere. Magari voglio mettere nella ciotola un po' per volta. Credo che vi sia molto facile di immaginare una serie di varianti, di dettagli aggiuntivi che potremmo mettere qua. Quello che è importante, ma viene un po' con l'esercizio, è capire qual è il giusto livello di dettaglio da scegliere. Alcune attività non le voglio andare a dettagliare troppo. Immaginate che io debba andare a descrivere un'operazione che viene fatta con un'interfaccia web. Alcune operazioni, ad esempio, se inserisco un indirizzo di mail senza la chiocciola, mi viene segnalato un errore. E con questi dettagli qui, probabilmente, non sono rilevanti quando descrivo un processo molto complicato. Magari sono rilevanti se vado a descrivere un sottoprocesso molto più ristretto. Quindi, devo trovare il giusto livello di dettaglio, perché se il dettaglio cresce troppo, a questo punto non riesco più a capire nulla del processo. Se il dettaglio è troppo elevato, a questo punto molti particolari restano scuri. Soprattutto, una volta che io ho scelto un livello di dettaglio, è importante cercare di restare più o meno costanti. Quindi, se scrivo tagliare il Würstel, non è che quando parlo del formaggio vado a dire che prima ne taglio un pezzo, poi tolgo la crosta, poi lo taglio in maniera longitudinale, poi lo giro, lo taglio, eccetera. Quindi, devo cercare di mantenere tra le varie attività un livello di dettaglio che sia comparabile. Poi, se c'è qualche particolare che è molto importante, rilevante, anche se di dettaglio, allora magari lo descrivo ulteriormente. Ma, in generale, mantenete un livello di dettaglio omogeneo. No, allora, in questo caso, forse gli esempi che abbiamo visto, abbiamo un fork in cui abbiamo una serie di attività in parallelo e poi subito dopo il join. Io posso anche avere due percorsi assolutamente in parallelo e indipendenti. Quindi, non semplicemente così. Potrei avere qualcosa di molto più complicato. No, 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 attenzione. Distinguiamo che cosa bisogna fare da chi lo deve fare. Qui non c'è nessuna informazione su chi le fa che cosa. Quindi, se io ho cinque cuochi, quelli possono fare ciascuno un'attività. Se il cuoco è unico, ne farà una dopo l'altra. Sì, in realtà, questo non c'è scritto. Se tu immagini che questo venga eseguito da una persona sola, questa persona dovrà scegliere, dovrà decidere in maniera autonoma quale fare per qui. Esatto. E evito di essere troppo prescrittivo. Poi, posso immaginare che ci siano due cuochi, allora i due cuochi si suddividono le cose. O se sono molto bravi, il cuoco con due mani fa due cose contemporaneamente. Però, questi sono dettagli che non sono presenti qua. Io cerco di essere non troppo prescrittivo, altrimenti vincolo troppo il mio processo. Io cerco di essere troppo prescrittivo,